Nei giorni scorsi è giunta in redazione la segnalazione di una nostra telespettatrice che ci ha messo al corrente di quello che sta avvenendo da un po' di tempo a Mazzara e più precisamente nella via Sardo, a due passi dalla centralissima Corso Umberto I, dove si è creato un ricovero di immigrati apparentemente del tutto illegale, all'interno del quale verrebbero ignorate anche le più elementari norme igienico-sanitarie. Ho notizie da fonti sicure, scrive la nostra telespettatrice, e la situazione è piuttosto grave. I locali abusivamente occupati sarebbero, per intenderci, quelli dell'ex bar Pierino. Lì, ormai da mesi, vivrebbero dei ragazzi extracomunitari che usano i locali abbandonati prevalentemente come rifugio notturno. Dando un'occhiata fugace all'interno dell'immobile, continua la nota, si può notare a terra la presenza di stuoie utilizzate per dormire e fornelli da campeggio e bombole di gas verosimilmente utilizzati per cucinare. Ai disagi riguardanti gli stessi soggetti che, come detto, vivono in condizioni igienico-sanitarie davvero al limite, si sommano poi i disagi di coloro che abitano in quella zona. Sempre secondo alcune indiscrezioni, infatti, pare che gli stessi occupanti dell'immobile, non avendo dei bagni a disposizione all'interno della struttura, espletino i propri bisogni fisiologici all'interno di sacchetti neri, che poi vengono abbandonati nei più vicini cassonetti della spazzatura. La nostra telespettatrice a questo punto si pone delle domande alle quali sarebbe interessante trovare delle risposte. L'amministrazione comunale e le forze dell'ordine sono a conoscenza di questa situazione? È auspicabile un intervento da parte dei soggetti preposti per trovare una sistemazione decorosa per questi poveri disperati? Domande alle quali al più presto speriamo si possa trovare una risposta, problemi ai quali, quanto prima auspichiamo, si possa trovare una soluzione.